bella a tutti ragazzi qui è teddy e benvenuti a un nuovo video allora niente intro particolari perché ci sto ancora lavorando però avevo necessità di iniziare questo nuovo percorso di ampliamento di analisi sportiva con voglio dire il caso più palese il caso più lampante del fatto che il calcio sia oramai cambiato a livelli radicali ed è ovvero il caso Kylian Mbappé che come sapete ha deciso e ha già informato la dirigenza del PSG che non avrebbe rifirmato il contratto in scadenza l'anno prossimo e di conseguenza il PSG lo ha messo sul mercato che fa quasi abbastanza ridere effettivamente come concept il fatto che il PSG metta sul mercato qualcuno di così esoso perché vedendo le possibilità economiche in questo momento col fair play finanziario delle principali squadre d'Europa c'è solo una soluzione ed è la soluzione che la storia appunto che ho riportato da Bleacher Report su Instagram tutti i link in descrizione per seguirmi ovunque tra l'altro c'è il canale secondario per i gameplay uscirà il nuovo episodio della MyCareer ma è un'associazione lì non più su questo canale questo canale è solo per analisi sportiva sempre con focus NBA ma oggi ovviamente data la nuova direzione del canale ho deciso di partire con il caso Mbappé perché ci sono tante cose da dire anche su Mbappé e tutto quello che si scatena ovviamente no attorno alla sfera di Mbappé perché non sarebbe solamente un trasferimento calcistico sarebbe molto di più ok e ovviamente questo trasferimento che sarebbe per un anno poi ci arriviamo perché solo per un anno però andrebbe a incastrarsi con quelli di Messi e quelli ovviamente l'anno scorso di Cristiano Ronaldo che fa capire un certo cambiamento di mentalità e soprattutto di come le fondamenta del calcio europeo siano oramai crollate completamente stavo dicendo che in descrizione del video trovate tutti i link per i miei social eccetera in più trovate il link al canale secondario che sarà solo ed esclusivamente per gameplay quindi se siete interessati a gameplay di NBA 2K e altri giochi che poi posterò nel secondo canale tutti i link in descrizione se non avete visto il video con tutte le novità vi lascio qui nella scheda il video che è uscito ieri con tutte le novità che potete appunto che saranno presenti sul canale e sull'altro canale appunto del gameplay da oggi in poi detto questo quindi l'offerta dell'Alilal al PSG è di 332 milioni al PSG che ha già accettato il PSG ha già detto a posto 330 ci bastano 330 bastano e probabilmente avanzano e la parte più diciamo impattante di tutto questo discorso è ovviamente il contratto al giocatore perché si tratta di un contratto annuale a 776 milioni di dollari che credo sia più o meno l'ingaggio del 50 cioè se noi sommiamo il 50% delle squadre europee non fanno 776 milioni di dollari quindi non ho fatto il calcolo ovviamente non ho letto nessuna statistica vado ovviamente a così a ipotesi l'annualità del contratto è presto spiegata perché pare e il PSG il PSG è convinto che Mbappé abbia già l'accordo col Real Madrid per il 2024 quindi una volta che Mbappé che rimanga al PSG in qualche modo fuori squadra magari o che appunto diventi svincolato una volta che gli scade il contratto ha già pronto un contratto con Real Madrid di 26 milioni all'anno però ovviamente per quanto scontato sia il trasferimento di Mbappé a Real Madrid che sia quest'anno sia l'anno prossimo fa pensare molto ovviamente le cifre che girano attorno a questo trasferimento e non sono qua a fare morale spicciola eh ma guadagnano troppo si è perso il valore dei soldi Mbappé sposta molto più di un miliardo e uno di dollari ok che è la somma tra i 300 milioni di al PSG più i 780 milioni di ingaggio più di un miliardo di dollari Mbappé sono sicuro che ne muove molti di più tra sponsor e quant'altro ok pare tra l'altro che i diritti d'immagine del di Mbappé saranno al 100% suoi quindi è un'offerta quasi irrinunciabile verrebbe da dire no un'offerta veramente importante ed è la più grande offerta mai vista sulla faccia della terra per quanto riguarda un trasferimento calcistico il vero problema però qual è secondo molti e secondo me non è tanto lo come dire la perdita del concetto dei soldi perché comunque nel calcio girano tanti soldi gli sponsor entrano tanti sponsor entrano nel mondo nel calcio ovviamente il calcio è finanziato diciamo principalmente dagli sponsor ok poi da insomma tutte le cose di marketing però ovviamente gli sponsor sono associati al marketing sono associati agli stadi perché comunque quando andate allo stadio vedete gli sponsor quando le squadre hanno la maglietta cosa c'è gli sponsor quindi gli sponsor sganciano bene e continua ad entrare ovviamente perché il calcio diventa un fenomeno sempre più globale e l'ondata di acquisti della Saudi Pro League sta confermando questa direzione del Piero andò in Australia ad esempio Messi è andato nella MLS prima di lui Beckham prima di lui Ibrahimovic c'era andato pure Pelé nella MLS ai suoi tempi quindi il calcio sta diventando un fenomeno sempre più globale gli sponsor ovviamente a livello globale entrano si genera più moneta più soldi e quindi ovviamente il valore sale ok dei giocatori sicuramente l'unica squadra le uniche squadre al mondo in grado di offrire una roba del genere ambapè sono le squadre arabe perché le squadre europee sono tartassate dal fair play finanziario le squadre arabe possono aggirare il fair play finanziario dicendo vabbè io spendo una cifra del genere però il mio conto in banca è questo ci sono tipo 1 e poi 18 zeri dietro il tuo fair play finanziario me lo compro praticamente e quindi l'unica soluzione per mbappè è andare in arabia a meno che non voglia rimanere fuori squadra un anno al psg oppure di ridursi estremamente l'ingaggio ma non è il basket nba questo e qualcuno dovrà pur comprarlo quindi o arriva il manchester city lo united una squadra di premier perché non ci sono altre squadre in grado di poterlo comprare e sganciano 300 milioni però poi il contratto al giocatore pareggiare o avvicinarsi quei 780 milioni è molto difficile devo essere onesto però qua c'è sempre la dicotomia il dualismo tra il calcio che conta ma ha meno soldi oppure il calcio arabo che non ha una gran storia diciamo a livello di kermes ma i soldi sono importanti parlando di soldi importanti però in questa finestra di mercato che finirà appunto ad agosto abbiamo visto un'ondata di trasferimenti in arabia non è come il trasferimento di cr7 l'anno scorso vabbè giocatore a fine carriera non lo vuole più nessuno il suo ingaggio è troppo alto per le big d'europa che comunque sono già a posto con gli attaccanti quindi nessuno vuole un attaccante come cr7 in squadra ha un ingaggio troppo alto appunto per la sua età e quindi in europa non c'è nessuno in grado sostanzialmente di pagare il suo ingaggio quindi l'unica soluzione se voleva continuare a giocare a calcio era andare o in mls o in arabia sono arrivati prima gli arabi e quindi è andato in arabia però la differenza tra il trasferimento di cr7 e l'ondata invece questa sessione di mercato è l'età media dei giocatori perché noi abbiamo sempre valutato questo tipo di campionati quindi l'mls sostanzialmente paesi molto ricchi l'america quindi gli stati uniti gli stati arabi quindi gli stati del petrolio no gli stati arabi ok come squadre come campionati dove i giocatori vanno a svezzare prima della pensione portano ovviamente un sacco di sponsor un sacco di seguito eccetera 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 però a fine carriera cioè nel senso giocatori di 36 anni 37 anni che completamente a fine carriera vanno lì sostanzialmente a fare a passeggiare per il campo un po' come fece del piero in australia ok non era più non era l'alex del piero ai tempi d'oro era un giocatore voglio dire oramai prossimo al ritiro infatti poi si è ritirato un paio d'anni dopo se non sbaglio e passeggiava per il campo cioè nel senso di certo non sono campionati competitivi ok cioè non è la premier league ok non è la serie A non è il la bundesliga ok chiamare competitiva la bundesliga forse è un parolone perché sono due squadre sostanzialmente però comunque campionati di alta fascia la liga ad esempio con le due di madrid il barça e poi il siviglia che vince ogni anno l'europa league però non sono campionati competitivi quindi di solito l'età media è alta invece in questa sessione di mercato stiamo iniziando a vedere giocatori anche nel pieno della loro carriera andare a giocare nella nella Saudi pro league ad esempio Benzema classe 91 scusate Kanté classe 91 quindi ha due anni più di me sono 32 anni voglio dire se 32 anni non è il pieno se non è il pieno della carriera 32 anni non so cosa dire voglio dire 50 milioni a stagione ok è andato all'Ali Tihad ad esempio Benzema anche lui ha vinto il pallone d'oro è andato a 100 milioni all'anno per 3 anni anche lui all'Ali Tihad nella stessa squadra di Kanté comunque Benzema non è un giocatore finito il Benzema che ho visto negli ultimi 2 anni quello del pallone d'oro l'anno scorso degli ultimi 2-3 anni non mi sembra un giocatore finito almeno non mi ha dato l'idea di un giocatore pronto o prossimo al ritiro Kanté è uguale cioè Ruben Neves classe 97 quindi 26 anni 26 anni Allali Lall che è la squadra che vuole Mbappé e Koulibaly è andato al Chelsea si è fatto un anno di saliscendi venduto piglierà 30 milioni a stagione Koulibaly Duar Mendy anche lui portiere del Chelsea Vallalali Brozovic dopo un tir e mollo assurdo con l'Inter va anche lui all'Alasr Jota Gerrard è andato ad allenare non a giocare Milinkovic Savic che forse è stato il trasferimento più impattante di questa sessione di mercato perché comunque era appetito dalla Juve dall'Inter da qualche squadra europea però sono arrivati gli arabi Lali Lall e se lo sono presi Sekofofana anche lui Dallan per 25 milioni Teyes in uscita dallo United e poi altri giocatori minori qual è la problematica di questi trasferimenti la problematica di questi trasferimenti è che va a sottolineare secondo me come il non solo il fair play finanziario ma proprio la logica dietro al mercato dei giocatori di calcio di quest'ultimo periodo ma quest'ultimo periodo forse degli ultimi dieci anni insomma possiamo dire sia oramai un sistema completamente convoluted no quindi è un cane che si morde la coda cioè nel senso non ci sono squadre ok importanti squadre importanti ok se noi tornassimo indietro di 5-10 anni e Benzema fosse stato sul mercato Kanté fosse stato sul mercato Koulibaly fosse stato sul mercato Neves fosse stato sul mercato Brozovic Migrincovic Savic Tejes ok c'erano squadre di alta fascia che avrebbero fatto un'asta per andare a prenderli ok perché perché c'era il grano siamo invece arrivati adesso in una situazione dove ci sono talmente pochi soldi come cartellini e come ingaggi perché poi c'è anche l'ingaggio e poi c'è la parte del procuratore e poi c'è il bonus alla firma e poi c'è questo e poi c'è quell'altro quindi alla fine diventano operazioni di mercato talmente esose nell'insieme perché se tu compri un giocatore a 20 milioni e gli dai 4 milioni all'anno è un'operazione da 24 milioni non è 20 milioni è 24 milioni in più c'è la percentuale della gente quindi cosa sono un altro milione e siamo già a 25 milioni è ben diverso un'operazione da 20 milioni e una da 25 cioè la differenza si fa importante figuratevi quando poi saliamo con le cifre andiamo sui 60 70 80 100 milioni è normale che poi l'ingaggio del giocatore diventa sempre più alto quindi abbiamo giocatori da 100 milioni che ne prendono 30 all'anno e un'operazione da 130 milioni più la percentuale della gente diventa 140 milioni in un amen quindi il problema attuale del calcio europeo è che le squadre che dovrebbero che di solito hanno comprato che hanno speso che potevano rinforzarsi in questo modo non hanno più non hanno più modo di farlo non c'è più la libertà di spendere non c'è più neanche i soldi non ci sono perché i giocatori costano sempre di più gli agenti vogliono sempre di più e ovviamente gli arabi alzano il target perché entrano con i loro soldi e spendono e spandono a tutti tipo tonali al new castle per 60 70 milioni io non credo tonali valga 70 milioni io credo che tonali ne valga al massimo 40 però arriva pif che è tipo il secondo il secondo sceico da rabbia e si sveglia la mattina apre gli occhi ha già guadagnato mezzo miliardo e dice ma si dai pigliati questi 70 milioni non me ne frega niente quello che una volta facevano i berlusconi i moratti gli agnelli la presidenza dello united che in realtà fanno ancora adesso però comprano meguire ma quello è un altro discorso però all'epoca all'epoca era quello che facevamo noi in italia ad esempio negli anni 90 il trio degli olandesi poi la juve l'inter insomma vi ricordate il parma che vinse la coppa UE io non so se vi ricordate quel parma c'era Buffon Turam Cannavaro cioè oggi sarebbe impensabile per una squadra di media fascia come il Parma poi vabbè è fallito però è come se oggi l'udinese avesse che ne so non so Bappé Neuer cioè per dire no cose assurde il vero problema del calcio europeo è che queste mosse di mercato da parte degli arabi non solo vanno a togliere pezzi importanti comunque perché io continuo a reputare a parte un paio di esempi ovviamente un po' estremi però Cantè non mi sembra morto a fine carriera Coulibaly non mi sembra morto a fine carriera Neves non mi sembra morto a fine carriera Benzema morto a fine carriera cioè questi colpi della Saudi Pro League vanno allo stesso tempo a togliere competitività ai mercati europei va a togliere competizione ai mercati europei e alle squadre europee perché comunque perdere Benzema Cantè Coulibaly Neves Milinkovic Savic per un anno probabilmente Mbappé cioè le competizioni europee vanno a perdere di fascino perché immaginate se poi l'anno prossimo vanno via altri quindi l'anno prossimo va via Neymar va in Arabia pure lui arriva arriva che ne so De Bruyne va anche lui in Arabia non lo so Salah va in Arabia pure lui questa ondata in uscita perché i soldi ovviamente sono incredibilmente tanti da parte degli arabi tolgono i giocatori migliori ai campionati europei il problema è che ovviamente poi le persone insomma vedere una Champions League che inizia a perdere Salah De Bruyne Neymar diventa un pochino più difficile cioè per carità è sempre la Champions League eccetera però ovviamente va a creare un dislivello di competizione importante perché perché poi le squadre che vendono agli arabi questi giocatori prendono un sacco di soldi che comunque tra liberare un ingaggio esoso e i soldi che poi il appunto il PSG prenderà 300 milioni da insomma dal trasferimento di Mbappé è normale che poi il PSG va a reinvestire quei 300 milioni però il Milan non può far niente la Juve non può far niente l'Inter non può far niente la Roma non può far niente quello non può far niente quello non può far niente e alla fine il gap diventa che dovrebbe ridursi perché comunque di certo gli arabi non vanno a comprare Krunic per dire o non vanno a comprare D'Ambrosio ok e va bene però ovviamente gli arabi vanno a comprare i giocatori migliori perché vogliono portare il talento nel loro campionato e quindi vai a comprare che ne so vai a comprare Lautaro vai a comprare non so vai a comprare Dybala vai a comprare Vlaovic cioè nel senso il problema è che poi queste squadre che vendono questi pezzi grossi vanno a reinvestire i soldi il problema è che non possono però andare a comprare quei giocatori forti affermati di punta perché perché tra ingaggi e costo di trasferimento non ci stanno dentro quindi il PSG va prende 300 milioni vabbè il PSG è un caso a parte perché anche loro hanno lo sceico eccetera però facciamo finta che la Juve vende Vlaovic al PSG per 80 milioni una cifra a caso ok 80 milioni e poi uno dice vabbè 80 milioni ti rifai la squadra e sì però ti rifai la squadra ma chi vai a prendere vai a prendere il giovane di 20 anni dal quello che fa il Milan sostanzialmente quello che ha fatto il Milan in questa finestra di mercato è andato a prendere giovani di 20 22 24 25 anni perché non può spendere anche col trasferimento di Tonali 60-70 milioni 60-70 milioni vado a prendermi un Milinkovic Savic no perché Milinkovic va a ciapà quanto 30-35 milioni quanto va a prendere non lo so quanti milioni all'anno va a prendere e ovviamente non puoi competere con un'offerta del genere quindi il distacco tra le squadre migliori e quelle peggiori si amplia perché comunque le squadre peggiori di certo non vendono agli arabi e quindi non entrano i soldi le squadre migliori invece possono permettersi di continuare a spendere portando via i giocatori migliori e le squadre minori quindi l'inserimento degli arabi nel mercato calcistico europeo non è solamente un ridurre la competizione a livello europeo ridurre anche il fascino del calcio europeo che comunque se van via tutti i più forti chi cazzo rimane non solo l'inserimento del mercato arabo va anche a creare ulteriormente una forbice tra le squadre migliori e quelle peggiori perché come ho appena detto le migliori sganciano questi contratti pesanti e possibilmente vendono anche il cartellino recuperano dall'ingaggio recuperano dalla vendita e quindi quei soldi vanno a reinvestirli portando via i giocatori più forti dalle squadre minori che però non possono spendere perché non possono spendere e per di più le offerte le offerte di di mercato per le squadre inferiori sono sempre al ribasso è vero che dei clan rice l'arsenal ci ha sganciato un fottio però è un caso a parte cioè nel senso se la juve va dal va dall'udinese che c'ha un baby fenomeno e gli dice senti voglio quel giocatore quanto vuoi è 60 milioni te ne do 40 non mi romper le palle se lo vuoi vendere se no te lo tieni e ci smeni 40 milioni e che fa l'udinese non piglia 40 milioni li piglia come 40 milioni però poi dove li rimbeste chi va a prendere un 40 milioni altri giovanotti sconosciuti sperando che ci sia un altro che valga 40 milioni questo è il problema di questi trasferimenti del di giocatori comunque non a fine carriera ma ancora nel pieno delle loro diciamo della loro capacità sportiva in arabia in questo momento è questo il grosso problema è proprio il fatto che ancora una volta le squadre più ricche diventano ancora più ricche e le squadre minori comunque rimangono così ciulate perché non possono spendere non hanno la capacità di spesa e anche se vendono il baby fenomeno a cifre un pochino gonfiate alla big di turn non possono rinvestirlo non possono non possono spendere quei soldi per il prefinanziario e perché non non c'è non c'è motivo di farlo questo è secondo me il grosso problema di questi trasferimenti Mbappé ovviamente andrebbe a come dire il caso Mbappé un giocatore di 23 24 anni che va per un solo anno in arabia potrebbe essere un precedente comunque unico nella storia e potrebbe aprire un trend abbastanza brutto perché se lo fa Mbappé poi iniziano a farlo anche altri giocatori che dicono ma sì vado a farmi due tre anni in arabia piglio un sacco di soldi e poi magari torno indietro è un trend che a livello ovviamente di business per il giocatore è veramente trovare un oasi nel deserto perché ovviamente nel senso che a Benzema che gli dà 100 milioni all'anno nessuno solo chi ha i soldi per poterli ridare quindi non vorrei che il caso Mbappé qualora accettasse di andare per un anno in arabia aprisse poi una pista per altri giocatori che possano seguire il suo esempio possono seguire la sua strada cioè giocatori che appunto dicono anche nel più della loro carriera 23, 24, 25 anni tipo che ne so faccio un esempio vi ricordate quando Joao Felix era chiacchieratissimo il nuovo CR7 eccetera ecco immaginate Joao Felix a 18 anni 19, 20 quelli che aveva pigliava in arabia a 130 milioni all'anno poi si fa tre anni in arabia e dice ma si dai adesso vado in Europa eh cioè non è un po' è un po' strana la situazione comunque è colpa sicuramente di Wefa e FIFA questa situazione perché il mercato del calcio è è esploso anni fa ma vogliono continuare con questa insomma con le mani davanti agli occhi con le fette di salame davanti agli occhi facendo finta che non succede niente perché preferiscono metterla polvere sotto al tappeto rispetto che a risolvere la situazione e scopare per terra e quindi niente alla fine siamo arrivati che gli arabi possono aggirare il fair play finanziario perché hanno miliardi quindi per loro 100 milioni a benzemà sono come 10 centesimi per noi aggirano il fair play finanziario e le squadre europee che non hanno quella disponibilità economica per colpa del fair play finanziario non possono non possono né comprare questo tipo di giocatori e adesso sono in arabia a 25 26 anni che dire non lo so fatemi sapere voi questa situazione il caso Mbappé è un unicum nella storia però pare che sia già Real Madrid sostanzialmente però un anno a 776 milioni di dollari non male Kilian non male io ci andrei fatemi sapere io vi ringrazio vi saluto ci vediamo un prossimo video a